C'è un amore in ogni borsello, se il tuo è proprio quello che sfoggia, lui ritorna al parco cappello, lo troverai là, ma in quel capanello di uomini col borsello, lui solo ha... Buonasera, il nostro ospite già sorride, c'è un amore in ogni borsello, cantano Elio le storie tese, mi sa che dobbiamo crederci e chissà se ci crede anche il nostro ospite che per professione si occupa di finanze cittadine, quindi di borselli, di passioni, a go go. È un piacere ospitare in una di queste prime edizioni del 2023 il sindaco di Lugano, Michele Foletti, buonasera e benvenuto. Buonasera e grazie dell'invito. Non si può non sorridere di fronte, c'è un amore in ogni borsello, ma perché il rappresentante di un'istituzione, quale lei, ci porta in studio la simpatica e gogliardica anarchia, perché di anarchia un po' si tratta, di Elio le storie tese. Perché Elio ha fatto parte della mia gioventù e non era ancora molto conosciuto e lo seguivo già, mi ricordo, in un concerto a Varese, ero poco più che ventenne, in un parco a Varese, c'erano quattro gatti a seguirlo. Però il fatto è che lavoro in ogni borsello, anche perché alla fine le finanze condizionano un po' la vita di tutti quanti e quindi hanno fatto parte anche un po' del leitmotiv della mia vita, da quando ero in Gran Consiglio, in Commissione di Gestione e Finanze, a quando poi ho preso nel 2013 la responsabilità di finanze della città. È una scelta complicata che un po' deve sedare le passioni, perché la politica è fatta di passione, ma è più facile metterci il cuore quando si va in piazza oppure quando magari siano anche altri di Casteri. Invece fra preventivi, consuntivi, moltiplicatori, i conti comunque devono tornare. Perché un passionale come Michele Foletti si è buttato, ha avuto simpatia per i conti? Guardi, io ho fatto l'apprendizio di commercio e ho finito con il 2 in contabilità. Non dovrebbe dirlo, però sì. Ma perché in politica poi le finanze sono quelle che dettano ritmo? Se ci sono le finanze sane, tutti possono fare delle scelte politiche. Se le finanze non sono sane, le scelte politiche non c'è più spazio per farle. Quindi anche i colleghi di municipio che hanno altri di Casteri hanno meno possibilità di far scelte. E anche il Consiglio Comunale, quindi il legislativo, ha meno possibilità di scegliere. Quindi le finanze sane sono il presupposto per poter avere delle politiche sane. E quindi ci vuole qualcuno che si prenda questa responsabilità e cerchi di tenerele sotto controllo. Il Borsello, Calcolatrice, Conti, siamo d'accordo, però c'è un amore anche lì, in fondo, si vive di passioni anche lì. A proposito di passioni, questo è un programma che un po' vuole stanare gli ospiti, toccarli proprio sulle passioni. Quando io l'ho invitata, lei ha detto ci penso un qualche giorno. Mi ha un po' sorpreso, perché di solito i politici quando vengono invitati in televisione dicono al volo di sì. Perché ci ha pensato un po'? Ma perché vedendo il livello dei vostri ospiti, normalmente, non mi sentivo adeguato. Perché un semplice sindaco di Lugano, un sindaco anche un po' per caso, perché non ho mai voluto fare sindaco di Lugano. Io ero un sindaco che mi piaceva tantissimo, con il quale andavo d'accordissimo e vorrei che fosse ancora lui il sindaco di Lugano. Quindi, però dopo, pensando, certo, vabbè sì, sono un po' il sindaco della città più popolosa del Ticino. Fa parte anche del gioco e del cahier des charges, insomma, di doversi presentare. Ho visto qualche settimana fa, c'era Milena Gabanelli, che per me è un mito del giornalismo. Dico, ma devo andare io a sedermi allo stesso posto? Ora, se gli ospiti sono di alto livello, ci pensa poi il conduttore ad abbassarlo e così. Magari siamo in due oggi. E se sono di basso livello gli alzano il conduttore? E tutto il giocatore. Poi alto livello, basso livello è sempre complicato capire, perché per esempio, Elio e le storie tese, è alto livello o basso livello? Ah, per me è altissimo livello. Ecco, quindi diventa sempre difficile applicare un metro, cosa è alto e cosa è basso. È sempre molto soggettivo. Sindaco, lei ha già citato implicitamente, ovviamente, Marco Borradori. A distanza di più di un anno dalla sua scomparsa, lei ha superato questo lutto? Beh sì, il lutto l'ho superato. Non ho superato la mancanza di Marco, perché, come dico sempre, ci confrontavamo spesso, ma in maniera anche molto sincera. Oggi mi manca una figura come Marco con la quale confrontarmi sulle problematiche di tutti i giorni che si vivono in un municipio, proprio perché trovare un'alchimia come quella che si è restaurata in tanti anni di collaborazione con Marco è difficile con qualsiasi altra persona. Quindi, niente, mi manca una spalla, mi manca una stampella. Cosa ha scoperto? Poi, lavorando sui dossier che ha dovuto ereditare comunque come sindaco, della persona Marco Borradori, dalle sue carte, insomma, è uscito un altro profilo diverso da quello che conosciamo. No, ho scoperto che Marco ha sempre lavorato tanto senza dircelo, senza dirlo a noi municipali. Cioè, quando mi sono trovato a dover ricoprire il ruolo di sindaco, ho scoperto tutto quello che Marco faceva, ma senza dircelo. E quindi, tenendoci un po' anche protetti da tante cose che affrontava lui in prima persona e poi risolveva e al massimo veniva in municipio quando il problema non riusciva a risolverlo. Quindi, questo mi ha stupito perché non me ne ero mai accorto. Sì, poi effettivamente lei ha ereditato, sì, il testimone politico della città, del ruolo di sindaco, però lo ha ereditato non dal suo ex sindaco, ma da un amico. Lei, durante la commemorazione allo stadio Cornaredo, ha detto un compagno di avventura. È stato doppiamente doloroso, quindi, ereditare questo testimone proprio in quanto sindaco e amico. Ma più che doloroso, credo che è stato doveroso. Io credo che in quel momento lo dovevo a Marco, di cercare di raccogliere da terra il testimone che aveva lasciato e portare avanti un percorso che avevamo iniziato nel 2013 con delle visioni, con una progettualità che adesso piano piano sta a un po' i frutti di quanto si era seminato. Stiamo raccogliendoli, stiamo portandoli avanti. E quindi era anche un momento dove il grano stava maturando, bisognava iniziare la miettitura e lui purtroppo è scomparso prima di poter fare la miettitura. Certo. Ci sono altri modelli politici, anche sovraregionali, e quali lei si è ispirato? Personaggi storici della politica che l'hanno un po' segnata e indotta su una strada? Io credo che nel passato ci sono dei politici che hanno avuto delle visioni e hanno saputo anche portarli avanti con fermezza, senza cercare di piacere a tutti i costi. Oggi non ce ne sono più, ce ne sono sempre meno. Oggi in politica si cerca di piacere e per piacere non si porta avanti con convinzione le proprie idee. Quindi è un po' il gioco dei like su Facebook, chi la spara più grossa riceve più like, allora andiamo da questa parte. Io credo che questo sia il modo peggiore di fare politica. Io credo che chi fa politica deve fare politica perché crede in una visione, crede in determinate soluzioni per il paese e deve impegnarsi per cercare di convincere gli altri e portarli avanti. Se no si perde un po' la rotta e si rimane un po' troppo così, un po' delle bandiere al vento che a dipendenza di dove va l'opinione pubblica va anche il politico. Certo, non c'è dubbio che i social hanno anche rivoluzionato un po' il modo di fare politica. Negli anni 90, quando si era affacciata alla Lega rivoluzionando il clima politico in Ticino c'erano i Santini, se non sbaglio. Non c'erano i social e di fatti Giuliano Bignasca aveva inventato il mattino e poi aveva inventato la Lega perché c'era bisogno di far sentire la propria voce, la propria idea. Oggi è molto social, ma social è molto anche effimero. Quanto dura un post? Dura poco, dura lo spazio di qualche ora e poi c'è già il prossimo post e poi si cambia argomento. La politica si faceva in strada, magari sul Ponte Diga beccandosi anche qualche… o sull'autostrada, qualche cazzotto, oppure a Giornico, anche sui binari. Michele Foletti era per la disobbedienza, aveva un cuore da disobbediente. Assolutamente, ma penso che sia anche naturale per un giovane essere un po' disobbediente e cercare di combattere per i propri ideali. Ero a Giornico per la chiusura della Monteforno e per i tempi era, secondo me, doveroso anche difendere quei posti di lavoro. Certo, poi adesso non vogliamo entrare nel tema dell'autogestione, per la quale lei si è dichiarato anche favorevole, ma al prezzo però di un dialogo, di sedersi attorno a un tavolo. Ma questi ricordi, la Carovana della Libertà, Ponte Diga di Melide, Giornico per la difesa della Monteforno, adesso sono solo dei ricordi oppure sotto la giacca del sindaco comunque continua a battere un cuore disobbediente? Più che disobbediente, un cuore che è sensibile alle ingiustizie. Se ci sono delle ingiustizie, io credo che bisogna cercare di risolvere e trovare soluzioni. Perché i prepotenti non mi sono mai piaciuti, chi vuole prevaricare non mi è piaciuto e soprattutto chi è più debole ha bisogno di essere difeso e chi fa politica deve difendere anche i più deboli. Lei si è definito più volte un leghista della prima ora, ma questa è storia e curriculum. Però più che della frangia dei picconatori, lei ha detto io sono un muratore che preferisce costruire piuttosto che denunciare. Qualche prevaricazione sul mattino l'abbiamo vista nei toni. Lei come rappresentante di un'istituzione rimane mai imbarazzato dai toni che ogni tanto leggiamo sul mattino. Sicuramente. Probabilmente capitava più in passato che in questi tempi con il nuovo corso del mattino. Però io dico sempre che se si fa politica si fa per costruire qualcosa e quindi per quello che mi sono definito un muratore piuttosto che un picconatore e ho sempre cercato anche in politica di trovare dei colleghi che volessero costruire qualcosa e penso anche nel mio passato in Gran Consiglio, qualcosina siamo riusciti a costruire qualche soluzione l'abbiamo trovata. Però bisogna trovare le persone che hanno voglia di costruire e per farlo bisogna essere almeno in due, in tre o in quattro per poi avere le maggioranze per poterlo fare. L'epoca dei Santini, anni 90, la gente votava Lega ma si vergognava o non confessava di farlo. Mi ricordo che c'era quel periodo. Quanto è stato difficile anche per lei, magari anche in famiglia, una famiglia che se non sbaglio è di tradizione liberale, dire io mi schiero con la Lega, ci metto la faccia e questo comprometteva anche delle relazioni familiari. No, direi che sono stato compreso. Tra l'altro ho iniziato a fare politica, poi alla fine ho convinto anche mio papà che è diventato il sindaco leghista a Papio Noranco. Dopo avevo parte della famiglia di mia mamma che erano tutti liberali, mio zio è anche presidito onorario della sezione liberale di Lugano. Però questo non ha creato nessun problema di rapporti familiari, anzi. Il papà Pablo è una figura che è conosciuta perché aveva, forse era grafico di professione. Lui aveva fatto la Kunstwerbe Schule a Basilea, era diventato grafico, aveva iniziato come tipografo, poi era andato a Basilea e aveva aperto poi il suo studio di grafica e pubblicità a Lugano e come passione faceva il giornalista. Il giornalista, cronista di Formula 1 dove c'era un gran premio, c'era suo padre e tra l'altro anche inventato e sposato con una grande intuizione a mettere insieme le macchine ordinarie e i bolidi della Formula 1. C'erano edizioni fino a 60-70 mila persone. Un papà che poi lei effettivamente ha indirizzato alla politica. Perché di solito è il padre che influenza i figli. Invece è stato il contrario. Qui è stato il contrario. C'erano delle immagini nel 1995 in Gran Consiglio. Siete stati eletti insieme nel 1995. Ecco, un anno d'oro buono nel curriculum di Michele Foletti perché tra l'altro in sostituzione come subentrante di Marco Borradori aveva fatto un anno da municipale. Ma aveva 29 anni doveva gestire delle aziende un po' complicate. Sì, lo vedo che è preparato. Ai tempi il municipio era di soli 5 membri e ho ereditato il dicastero che era di Marco e era il dicastero delle aziende municipalizzate. Quindi avevo aziende dell'acqua potabile, della luce, quindi l'elettricità, il gas, il macello, i trasporti pubblici. Non c'erano ancora le società anonime. Erano tutte aziende municipalizzate. Esatto. E da solo avevo più dipendenti dei miei quattro colleghi che gestivano il resto del comune. Quindi, chiamato da Flavio Maspoli pochi anni prima, era un ragazzino, faceva l'apprendistato al giornale del popolo come giornalista e si è subito trovato a dover gestire dei dossier molto complicati. Poi nel 1996 però non riesce ad entrare in municipio. Nel 1996 abbiamo perso un municipale, è stato eletto Giorgio Salvadei, sono uscito ed è rientrato il PPD, è entrato Guido Brioschi, che aveva preso il mio posto come responsabilità. E quindi in politica a volte si vince, a volte si perde. Ma in politica è più le volte che si perde, e lo dico per esperienza. C'è stato anche qualche episodio, mi ricordo, quando poi lei è stato eletto anche primo cittadino, Presidente del Gran Consiglio nel 2012. Non tutti l'hanno votata. No, c'è stato l'abbandono della sala da parte dei socialisti e dell'ala radicale del Partito Liberale. Per protesta. Per protesta. È una cosa che è uscita sul mattino la domenica e quindi sta sorpresa con me come rappresentante della Lega. Poi succede che anche fuori da un bar in Piazza della Foca qualcuno l'ha insulti con degli epiteti molto pesanti, quindi il politico deve sobbarcarsi anche quello. Lei sente mai il peso effettivamente dello scettro, del potere, diciamolo pure, fuori dal vento? Il peso del potere no, perché io credo che un politico non ha potere. Il potere ce l'hanno i cittadini che hanno il potere di votare, di scegliere e di prendere le loro decisioni. Oggi non c'è più un politico che gestisce il potere. Il politico deve gestire le situazioni e soprattutto i problemi. Ogni tanto il peso lo si sente. Però devo dire che grazie anche alla collaborazione con i colleghi, grazie all'amministrazione, alla fine le soluzioni si trovano. Ogni tanto, come dicevo, ci si può sentire un po' soli, perché bisogna prendere delle decisioni e non si sa bene con chi confrontarsi. Però se uno lo fa e ci crede, deve essere anche capace di affrontare le critiche, di affrontare episodi spiacevoli, perché si è dei personaggi pubblici, soprattutto in un cantone ipermediatizzato come il nostro. In giro in città le tirano la giacca, la salutano, che da una parte può fare piacere, presumo. Sì, ma devo dire che mi ha sempre stupito il fatto di non aver mai ricevuto tante lettere anonime, minacce. Soprattutto la gente quando mi incontra in città mi saluta, fa due chiacchiere e mi ringrazia anche per l'impegno che ci metto. Quindi questo mi ha sempre stupito perché si pensa che diventi sindaco e quindi poi non piacere a qualcuno, puoi ricevere anche lettere anonime. Non ne ricevo, non so perché. Da domani mattina magari ne arriveranno. Dopo, da questa sera, chissà. Certo, uno è molto conosciuto in città, molto conosciuto nel cantone, però appena si passa la frontiera si entra in una sorta di anonimato. Lei cerca mai l'anonimato? Cerca mai di essere nessuno in fondo? Ma il piacere di andare in luoghi dove nessuno la conosce? Sì, ma mi piacerebbe essere anonimo anche stando in Ticino. Dopo è vero che ci metto più tempo oggi a fare la spesa di quello che ci mettevo prima di fare sindaco perché quando vai a fare la spesa ti fermano e ti domandano. Però devo dire che la cosa funziona. Dopo ti capita di essere riconosciuto anche se sei da qualche parte della Svizzera o in Italia al mare e arriva qualcuno e dice ecco il sindaco di Lugano. Sono ticinesi, vicini d'ombrellone. Hai citato il mare. Dove va il mare? Vado in Liguria per praticità perché è il mare più vicino. Certamente si trovano diversi ticinesi ma mi piace andare in montagna quindi vado anche a Cattù Grigioni e ogni tanto trovi qualche grigionese che ti conosce. Fra gli sport che ha fatto l'automobilismo lei è stato un rallyista navigatore, copilota non ha mai preso il volante in mano e poi ha fatto ok sci e anche se siamo al mare windsurf mi risulta. Ma lei è un windsurfista da vento da nord sul lago di Lugano? Ero. Ah ecco perché quando picchi al vento gli si viaggia. Certo quando ai tempi quando c'era vento da nord si partiva dal circolo velico e poi si cercava qualcuno che ti venisse a prendere a campione perché si faceva la sparata fino a campione d'Italia col vento da nord. E al mare anche sì. E al mare sì. Io ho avuto la fortuna di frequentare tanto la Sardegna al nord della Sardegna e Bocchi Bonifacio che era dove è nato un po' il windsurf in Italia a Portopollo e quindi per tanti anni tutte le vacanze dai morti fino all'estate si andava giù a fare windsurf con gli amici. Che cosa le insegna il mare questo orizzonte che è più grande di noi? No ma più che altro il windsurf mi ha insegnato tanto il rispetto della natura nel senso che sei fuori da solo con una tavoletta di sughero o una vela con vento forte e onde forti e lì capisci che sei un puntino in mezzo a un universo della natura e se non la rispetti rischi di non tornare più a caso di farti male. L'appello alla natura lei non lo fa da verde ovviamente ma forse perché è cresciuto a Pambio Noranco che adesso è stato fortemente urbanizzato fra industrie centri commerciali garage però Pambio Noranco ricordiamoci che era campagna in sostanza lui è cresciuto in campagna come la casa dell'infanzia aprivo la porta di casa e davanti avevo un prato con le mucche che pascolavano quindi oggi non ci si immagina nemmeno che cosa poteva essere però sono veramente vissuto in mezzo alla natura si andava a scuola a piedi andavo a scuola il cane veniva a scuola con me quindi si sdraiava sotto il banco stava lì ma erano erano altri tempi erano altri animali e poi mio papà aveva la passione per gli animali quindi avevamo anche asini pecore il lama i daini gli animali a cortile il lama chiamato dalai però anche lì devo dire è stata molto istruttivo perché io prima di andare a scuola la mattina dovevo portare da bere da mangiare gli animali e poi andavo a scuola l'estate ed inverno però quel mondo bucolico ora non c'è più da Pambio Noranco a Grancia chissà forse lo sviluppo e il progresso ha richiesto il suo prezzo e il prezzo è stato di cancellare tutto quel mondo resiste a spicchi però è vero che alcuni definiscono questi luoghi non luoghi lei ha mai riflettuto su questa perdita dell'innocenza no ma certo su questo stiamo facendo un lavoro che è legato al piano direttore comunale per cercare di ridare un po' di caratteristica a questi luoghi e nelle scorse settimane ci siamo incontrati ancora con il team e sta uscendo qualcosa per cercare col tempo non sarà facile perché ci vorrà tempo a riqualificare questi luoghi che sono andati perduti penso al piano della stampa penso a Piascherolo ma credo che se c'è la volontà si potrà ridare un po' di identità a questi luoghi tra l'altro vediamo già oggi che ci sono dei progetti ci sono anche delle costruzioni che sono state portate avanti e stanno ridando qualità a questi spazi però è vero che non è facile rimediare gli errori che sono stati fatti per passare intanto noi non questa ma abbiamo mandato anche delle cartoline della Lugano Liberty che aveva quel decoro meraviglioso di rapporto corretto fra urbanizzazione e natura adesso Lugano è una città che è molto molto cambiata sono in arrivo anche con i forti contribuenti e che si possono dare dei soldi nelle casse che lei gestisce però è vero che fanno aumentare i prezzi della città una città che per i cittadini diventa difficile abitare persino per la middle class che magari costretta notizia di qualche giorno fa andare a vivere in Italia questo non la fa arrabbiare profondamente no io credo che dobbiamo trovare delle soluzioni per fare in modo che la città sia vivibile per tutti però ci vuole anche della qualità nel costruito e la qualità negli spazi quindi il primo lavoro sarà quello di dare maggior qualità agli spazi pubblici non solo in centro città ma in generale dappertutto e poi fare in modo che tutti possano trovare il proprio alloggio a Lugano il fatto che arrivino persone benestanti non lo vedo come un male anzi lo vedo come il fatto che probabilmente siano riusciti a portare una qualità di vita a Lugano che attira queste persone però il fatto che arrivino queste persone non devono escludere altre persone che oggi vivono a Lugano la cancellazione dei quartieri popolari quello sarebbe terribile per una città di Lugano c'è ancora la possibilità di vivere spendendo poco tant'è vero che abbiamo un buon numero di persone che se guardo la statistica delle fasce di contribuenti i forti contribuenti sono pochi rispetto agli altri abitanti non è una città per soli ricchi ma forti contribuenti Tarantino no non c'è Tarantino non c'è Tarantino però noi l'abbiamo invitato almeno l'abbiamo invitato là sopra vediamo qualche immagine di un film storico e mitico direi poi mi spiega perché l'ha voluto ho voglia di ballare no 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 se non sbaglio Marcellus mio marito il tuo capo ti ha detto di portarmi a spasso e di fare tutto quello che voglio e io voglio ballare voglio vincere e voglio quel trofeo d'accordo perciò balla bene perfetto l'ho voluto tu per i primi concorrenti allora l'anno se lo ricorda mi pare fosse il 94 esatto è un film che ha segnato un primo dopo perché quando gli ho chiesto di portarmi un titolo del cinema lei ha scelto questo Pulp Fiction di Tarantino perché è un film che è stato forse il primo film che non era lineare qui sono tutta una serie di scene che non hanno un filo conduttore lo si capisce alla fine quindi è un film che ti prende ti intriga ma devi seguirlo bene fino alla fine per poi capirlo e poi c'era il ritorno di John Travolta che per noi era stato il mito di Grease ma che non lo si vedeva più da un po' di tempo sugli schemi quindi è stato il rilancio di John Travolta e poi c'è un maturma che è di più che è di più in questo film che è tanta roba come si dice poi tra l'altro notavo adesso non so se è un problema mio di vista mi sembrava che ha visto un buco nelle calze John Travolta ha dovuto togliere le scarpe per andare a ballare vabbè insomma ogni tanto succede lei mi è successo di togliersi le scarpe a qualche politico è successo nelle moschee in oriente di togliersi le scarpe non frequento moschee quindi è raro che tolga le scarpe no ma certo lei ha detto che questo è un film che è un assemblaggio insomma di momenti anche la vita di Michele Foletti per essere capita inquadrata alla fine bisogna vederla insomma quando poi penso che la vita di tutti perché soprattutto in questi anni è difficile oggi trovare qualcuno che ha fatto un percorso lineare nella sua vita professionale e personale oggi la vita è fatta di momenti di cambiamenti di scelte e quindi alla fine magari si riesce a capire cosa sono state però bisogna arrivare fino alla fine del film per capire cosa è stato il disegno generale no per esempio a proposito di disegni io preparando questa intervista ho scoperto che lei per esempio è in diverse fondazioni associazioni a scopo umanitario c'è la fondazione Gabbiano ma anche sull'oftalmologia i trapianti trasfusioni beneficenza poi per esempio è nelle fondazioni del polo culturale Lugano Musica il LAC ecco per un leghista per esempio avrebbe da chiedersi il LAC ma come un leghista che è nella fondazione del LAC certo da sindaco forse le sarà stato chiesto però lei ha una passione sincera per la cultura e per qualcosa che anche un po' esce dalle linee un po' più del leghista che non ha una passione per la cultura mi interessa la cultura ma non sono un appassionato di cultura ma credo che la cultura abbia un ruolo estremamente importante nella crescita di ogni essere umano e di ogni cittadino e quindi ritengo ancora oggi che quanto fatto dalla città con LAC e quello che è diventato LAC oggi sia assolutamente un valore importantissimo per la città di Lugano probabilmente lo si poteva far meglio e lo si poteva fare in altri modi dal 2000 a Erotti quando è partito fino al 2015 quando abbiamo inaugurato per oggi il LAC ha un valore estremamente interessante e importante per i nostri cittadini dopo anche un valore culturale un valore anche turistico però il LAC ha dato e sta dando e darà nei prossimi anni un'apertura ai nostri cittadini di visioni di esperienze che senza il LAC i nostri cittadini non avrebbero potuto avere quindi da questo punto di vista sì sono membro di tante fondazioni alcune perché sono obbligato come sindaco quindi sono membro altre perché sono entrato già prima ma credo che l'impegno civico di ogni persona è quello che fa la differenza per una società civile che sappia convivere bene e sappia anche guardare al futuro e svilupparsi certo io sviluppando questa intervista mi tocca da presentatore conduttori di questo programma mostrare un biscotto questo qui noi chiudiamo sempre così le nostre interviste con un biscotto chissà perché lei ha parlato di LAC mi viene in mente che LAC è costruttore anche di nuove identità e l'identità è un concetto che è stato caro per esempio al movimento della Lega per lei l'identità cos'è? secondo me l'identità è non rinegare le proprie radici ma essere capaci anche di aprirsi agli altri e LAC è uno degli esempi capitato subito quando è scoppiata la guerra sull'Ucraina bisognava decidere come fare la stagione musicale a LAC e c'erano diversi paesi dall'Italia alla Germania che non volevano più presentare orchestre russe o compositori russi e io ho sempre detto no perché la cultura non è questo la cultura deve servire a unire i popoli non a dividerli quindi certamente restiamo aperti e continuiamo a offrire anche produzioni che vengono dalla cultura russa anche se le russi hanno invaso l'Ucraina e credo che sia stati tra i pochi che subito all'inizio della guerra si sono dimostrati aperti in questo senso quindi la cultura deve essere far conoscere ai vari popoli le caratteristiche dei popoli ognuno può scegliere se gli piace o non gli piace però non bisogna nascondersi o negare queste possibilità adesso lei deve scegliere invece il biscotto è scritto un carattere molto piccolo ma vedo che ha portato gli occhiali sotto lo stemma di Luga Lugano la città chissà se riusciamo eh vabbè con gli occhiali sì c'è inglese e italiano con un incontro sereno potreste chiarire un malinteso di solito l'unico sistema per chiarire i malintesi è parlarsi di fare degli incontri sereni grazie Michele Foletti per essere stato in nostra compagnia uno scoop me lo dà alla fine qualcosa che non sappiamo sulla carriera politica futura di Michele Foletti no non mi dico nemmeno se mi ripresenterò come sindaco o meno perché mi sono detto che se verso la fine dell'anno mi divertirò ancora a fare il sindaco mi ripresento se non mi diverto più e vedremo grazie Michele Foletti grazie anche a voi per essere stati in nostra compagnia ci rivediamo la settimana prossima con un'altra edizione dello specchio con un altro ospite buona serata grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti